Daniele Fortini, numero uno di Ama Roma, la municipalizzata che si occupa di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani a Roma. Le turbulenze politiche nella capitale rischiano di compromettere il progetto degli ecodistretti, un progetto al quale lei tiene molto e sul quale ha puntato molto per il futuro della gestione dei rifiuti a Roma. Penso proprio di no, nel senso che ormai insieme all'ingegnere Filippi che è il direttore generale abbiamo incardinato il procedimento su un binario che per quanto a noi pare è irreversibile. Nel senso che abbiamo depositato il primo progetto, quello dell'impianto di compostaggio che si realizzerà a Rocca Scienze alla Regione, siamo in attesa delle autorizzazioni che auspichiamo entro novembre potranno pervenire e quindi cominciamo il cantiere per realizzare l'impianto più importante dell'ecodistretto. Sappiamo che da parte del commissario Tronca, così come del prefetto Gabrielli e del governo, c'è il massimo sostegno ad andare in questa direzione, quindi non vedo problemi per il processo che abbiamo già intrapreso. L'ecodistretto una volta terminato, quali saranno le sue parti, gli impianti, che cosa tratterà? Ma l'ecodistretto di Roma si caratterizzerà soprattutto per un aspetto, e cioè che tutti i rifiuti che vi saranno conferiti, sia quelli provenienti dalla raccolta differenziata, spinta porta a porta piuttosto che stradale a cassonetti, saranno immediatamente avviati alla valorizzazione, quindi saranno rifiuti che saranno raffinati, puliti, selezionati, in modo tale che all'uscita siano un prodotto già collocabile sul mercato. Ma l'elemento di novità che rende il nostro distretto unico e differente, e speriamo poi domani un modello, è che anche i rifiuti indifferenziati che entreranno nell'impianto saranno trattati in modo tale che alla loro uscita sono prodotti. Oggi invece accade che i rifiuti indifferenziati che vengono trattati con impianti TMB, trattamento meccanico-biologico, piuttosto che altri trattamenti, alla fine del trattamento o vanno all'incenerimento o vanno in discarica. Noi invece, quello che abbiamo previsto, grazie ad una tecnologia che abbiamo inventato, ad una invenzione industriale di Ama, abbiamo previsto che i rifiuti indifferenziati saranno trattati nell'ecodistretto e il flusso di uscita sarà un CSS destinato prevalentemente a cementifici e a centrali elettriche e la parte invece più umida, che oggi invece, fino ad oggi, andava in discarica, diventerà un prodotto da amalgamare attraverso miscelazioni con altri materiali inerti per essere impiegabile nell'edilizia. Benefici sulla tassa rifiuti in prospettiva? Ma guardi, nel corso del 2015 rispetto all'anno precedente abbiamo già risparmiato più di 20 milioni di euro e questo grazie ad una iniziativa che con più veemenza abbiamo spinto sul piano della legalità. La legalità conviene quando si fanno le gare, quando si crea la competizione virtuosa tra i migliori competitor, il risultato è che le stazioni appaltanti, la pubblica amministrazione, consegue benefici di qualità, di certezza e soprattutto di convenienza economica. Ovviamente questo si riverbera come beneficio sulle tasche dei cittadini, il problema più forte che ancora avvertiamo è l'elusione e l'evasione della tariffa rifiuti. Purtroppo ancora tante attività romane del commercio, dell'artigianato, della piccola impresa prevalentemente sfuggono al dovere di contribuenti e questo fa sì che mancando un 20% di risorse di chi non paga, chi paga paga di più. Ma la tariffa rifiuti è destinata a scendere. Quindi un miglior piano industriale, un miglior progetto industriale che fa risparmiare perché è più efficiente. Ci facciamo gli impianti ed evitiamo di trasportare a migliaia di chilometri quantità impressionanti di rifiuti. Secondo, giustizia ed equità contributiva in modo che tutti possano pagare. E terzo, legalità, che poi è il primo aspetto, ma legalità perché la legalità conviene gestire le aziende con saggezza, intelligenza, imparzialità, pubblicità e far sì che si creino i risparmi. Internalizzare la gestione dei rifiuti solidi urbani e delle frazioni valorizzabili significa a Roma sostanzialmente due cose. Dal punto di vista degli RSU provare una volta per tutte a liberarsi dai legami con il monopolio di Maglio Cerroni e del suo sistema. Dalla parte invece delle frazioni differenziabili e riciclabili sganciarsi un po' dal sistema delle piattaforme Conai. La prima cosa che abbiamo impostato proprio per affrancare Roma e Ama dalla dipendenza asfissiante per certi aspetti del monopolista privato è stato quello di sviluppare la raccolta differenziata. La nostra iniziativa non è tanto quella di colpire, punire l'operatore privato che per 40 anni ha dominato la scena. Ma noi dobbiamo fare il nostro mestiere che è quello di dire sottraiamo quanta più possibile monnezza dall'interramento e dall'incenerimento in modo tale che ci sia una convenienza per la città di Roma. Questo ovviamente andrà ad intaccare gli interessi del monopolista privato ma è una conseguenza, non è l'obiettivo. L'obiettivo per noi è fare bene la gestione del ciclo dei rifiuti. Ovviamente nel campo della valorizzazione delle materie riciclabili proprio perché siamo detentori della risorsa i rifiuti di Roma sono dei romani, lo erano fin tanto che sono stati un problema ora che possono diventare una risorsa lo devono essere ancora di più e quindi abbiamo bisogno di apparati, equipaggiamenti, industrie, stabilimenti, ecodistretti che siano pubblici e di ama perché il valore che potremo realizzare dal trattamento di questi rifiuti lo dobbiamo trasferire ai cittadini di Roma. Ma quello che ha dimostrato l'esperienza del CONAI ormai dal 1997, quindi dal decreto Ronchin poi è stata un'esperienza positiva per il nostro paese perché grazie al contributo del CONAI è cresciuta, si è diffusa, si è radicata la cultura del recupero e del riciclaggio e soprattutto degli imballaggi ovviamente. Grazie al CONAI si sono spinte maggiormente avanti le politiche di prevenzione e quindi una riduzione delle caratteristiche, della qualità e anche della quantità degli imballaggi. Detto questo, la maggior parte delle risorse che vengono messe a disposizione del circuito attraverso il contributo ambientale CONAI viene trattenuta dal mondo dell'industria e quindi dai selettori, recuperatori, utilizzatori dei prodotti rinvenienti dal riciclaggio mentre ai comuni, quindi alla fase della raccolta, le risorse che arrivano sono percentualmente inferiori. Io penso e continuo a pensare che invece noi dobbiamo avere una raccolta differenziata meno ossessiva e meno costosa per i cittadini e trasferire invece all'industria del recupero i maggiori oneri in termini di investimenti, innovazione per avere la possibilità di svolgere nell'industria quelle attività di raffinamento delle raccolte differenziate per fare in modo che poi quello che sarà il passaggio successivo all'utilizzo di questi materiali avvenga nel modo gradito all'industria. Per dirlo in due parole, potremo raccogliere i rifiuti in modo molto efficace come si fa a San Francisco e cioè con tre contenitori differenti e poi affidare all'industria la selezione del multimateriale la plastica, il metallo, le lattine, il vetro dovrebbero essere gli impianti industriali a separarli, raffinarli e prepararli per la vendita. Oggi invece noi chiediamo di fare il suo sforzo al cittadino, se avessimo un apparato industriale maturo e voluto che potesse raccogliere il multimateriale secco, ancorché mescolato ma che negli impianti industriali può essere canalizzato verso le raffinazioni e quindi poi verso il migliore utilizzo per la vendita questo farebbe sì che i cittadini potrebbero risparmiare tempo, energia si risparmierebbe nelle aziende della raccolta perché saremo molto più efficienti e si farebbero gli investimenti esattamente dove vanno fatti e cioè nell'industria manifatturiera capace di inventare, progettare, costruire macchinari che poi magari possono addirittura essere venduti nel mondo quindi abbiamo bisogno di un cambio di paradigma Un cambio di passo che può essere impresso dalle amministrazioni locali, comuni o regioni o c'è bisogno di una strategia nazionale, c'è bisogno di un governo che indirizzi il paese verso un modello di gestione dei rifiuti diverso in chiave europea che guardi dunque anche all'economia circolare, al futuro della gestione dei rifiuti così come è voluto disegnato dall'Europa Ma io penso che serve un'iniziativa politica forte così come è stata la politica a compiere la rivoluzione del decreto Ronchi prima il nostro paese non era certamente un paese virtuoso nella gestione dei rifiuti con il decreto Ronchi si è compiuta effettivamente una rivoluzione una rivoluzione industriale, una rivoluzione culturale e anche una rivoluzione politica perché la politica ha fissato gli indirizzi, le linee guida, gli obiettivi e su quella poi si è tenuta per tutti i 20 anni successivi quasi quindi è la politica che determina le scelte la politica oggi, Parlamento, Governo dovrebbero indirizzare su questa strada cioè quella della premialità dello sforzo industriale di modernizzazione del paese nel ciclo dei rifiuti orientare l'iniziativa poi dell'economia del paese nel contesto dell'economia circolare quindi sì, i comuni possono fare molto noi lo stiamo dimostrando in ama che si può fare molto l'eco distretto lo costruiremo la raccolta differenziata al 50% ce la porteremo conseguiremo risparmi che avranno come riverbero la possibilità di ridurre la tari la tari di rifiuti ai cittadini ma sono tutti sforzi che poi a un certo punto trovano un limite allora è necessario che siano le forze politiche ad avere consapevolezza del fatto che siamo a un punto di svolta dopo 20 anni si fa la revisione di qualunque macchina il decreto Ronchi ormai 20 anni ce li ha e quindi è il momento di cominciare a pensare quale debba essere il futuro nell'economia circolare della gestione coerente del ciclo dei rifiuti